Buongiorno ragazzi, io sono Vale03, mi vedete dopo un po' in faccia e ragazzi non ho caricato video serie, in questi giorni ho caricato giusto una canzone e un video così, diciamo, a caso di un annuncio che farà appunto questa serie, questa trilogia su GTA V non ve lo perdete quando usciranno appunto questi tre video ovviamente usciranno in sequenza il primo episodio, poi il secondo e poi ovviamente il terzo ed è una serie che andrà a ordine cronologico ragazzi, adesso vi farò vedere appunto, basta premesse, come ci sono dei profili su Instagram che ti aumentano i like e i following però sono alquanto inutili perché ovviamente sono, sì, ti fanno, ti rendono famosi sì, ma sono tutti comprati e poi sono dei bot, i like sono fake però hanno un costo veramente elevato ragazzi e vi farò vedere la mia testimonianza e ovviamente non la mia risposta perché ho risposto a questi, diciamo, questo profilo che mi aveva mandato questo spam che poi ovviamente ho segnalato, ve l'ho detto e ho risposto e ve lo dirò solamente se questo video raggiungerà 10 like ok ragazzi, faccio leggere allora, praticamente mi volevano offrire questo servizio un euro per un mese e al posto di 247 euro al mese che sono praticamente 3000 euro annuali poi se volevo continuare 99 euro al mese anziché di 247 euro che sono comunque 3000 euro al mese contando i 99 euro al mese invece sono comunque 1200 euro annuali quindi ragazzi, come potete vedere, sono dei costi veramente, veramente alti non vi consiglio assolutamente di farlo magari soltanto nel mese di prova perché ragazzi, secondo me, ti fottono anche i soldi nel senso cioè, veramente costosissimi, vergognosi io non vi do nemmeno il nome della page assolutamente tutto coperto e niente ragazzi questo è un video corto cioè, ragazzi, questo è tutto ci ricciao e raggiungiamo 10 like e ricordatevi di vedere la mia nuova serie quando uscirà e ci ciao